Ciao a tutti, sono Leo Candi, ho 25 anni, sono nato a Bologna, gioco Play Guardia e sono appena arrivato qui a Tortona. Sono carico ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura insieme a tutti voi. È stata una trattativa molto molto rapida perché c'è stata da entrambe le parti la volontà di chiudere in fretta il contratto. Io ho sposato appieno il progetto di Tortona, ho parlato con il coach e mi sono trovato subito a mio agio con lui, ho parlato con la società ed è stato lo stesso e quindi c'è stata sia la volontà mia che la volontà loro di fare questo matrimonio e quindi sono super contento. Le mie aspettative per questa stagione sono sicuramente quelle di fare bene, io sono un nuovo arrivato quindi chiaramente il mio obiettivo principale è quello di mettermi a disposizione del coach e del gruppo e di cercare di aiutarmi in quello che appunto posso fare meglio che è quello poi che mi chiederanno di fare e quindi niente le aspettative sono quelle appunto di dare il massimo sempre in qualsiasi circostanza e di puntare sempre in alto. Ragazzi vi aspetto al palazzo, mi raccomando carichi ed entusiasti, vi voglio carichi a manetta per questa nuova stagione, non vedo l'ora di vedervi, di incontrarvi e forza leoni! Un abbraccio, a presto, ciao!